...dai deputati Foti ed altri che ha ad oggetto intendimenti presentata dai deputati Foti ed altri che ha ad oggetto intendimenti del Governo in merito alla riforma della geografia giudiziaria. La deputata Dondi ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è confirmataria. Grazie Presidente, buongiorno Signor Ministro. Tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio indicati nel documento di economia e finanza è presente quello relativo alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. E dunque lo dobbiamo intendere come riforma alla geografia giudiziaria del 2012 che aveva visto la soppressione di 31 sedi di tribunale e 220 sezioni distaccate di tribunale in un'ottica di presunta realizzazione delle risorse. Il risultato primario di quell'intervento legislativo possiamo dire che non c'è stato, anzi interi territori hanno visto perdere i loro riferimenti di legalità e soprattutto di efficienza. Tanto è vero che l'accorpamento dei tribunali minori con quelli dei capoluoghi di provincia ha determinato un sovraccarico di lavoro per questi ultimi sia dal punto di vista del personale amministrativo che per quello della magistratura che ha a sua volta generato anche notevoli ritardi nella definizione dei procedimenti. La riforma del 2012 non ha assolutamente tenuto conto delle specificità territoriali di quei territori sia dal lato di criminalità che economico. Conseguentemente chiediamo, Ministro, quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla riforma della geografia giudiziaria. Grazie. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente e grazie a collega. In effetti questa problematica è già stata affrontata qualche settimana fa in questa stessa sede. Noi possiamo ribadire che questo obiettivo della legge delega del 2011, che era quello nell'ottica di uno spending review di allocare al meglio le risorse e di velocizzare i processi, non ha avuto gli effetti sperati. Abbiamo anche ammesso che una revisione delle circoscrizioni giudiziarie è allo studio di questo Dipartimento, di questo Governo e in particolare del nostro Ministero. Vi è una giustizia di prossimità che è venuta a mancare e rischiamo di fare la fine degli esiti negativi della sanità che abbiamo visto durante il Covid, quando per accentrare la specializzazione in alcuni settori abbiamo visto la sanità di prossimità vicina al cittadino venire meno con gli effetti funesti. Vi rendete conto, però, tutti ci rendiamo conto che qui confliggono interessi molto diversi. Ogni volta che si toccano le circoscrizioni giudiziari emergono contrasti dalle une e delle altre parti che noi cerchiamo di risolvere. In questa direzione il Governo ha già prorogato, alla data del 1 gennaio del 2025, il rinvio della soppressione dei Tribunali dell'Abruzzo, l'articolo 8 della Com. 8 Ter del Decreto del 2022, numero 198, e ha appunto all'esame la possibile riapertura di uffici giudiziari già soppressi anche con eventuale rimodulazione delle competenze territoriali. La priorità del nostro intervento è quindi l'imposto l'inserimento di un disegno di legge già collegato alla legge di bilancio del 2023 e quindi nel documento di economia e finanza licenziato dal Consiglio dei Ministri. D'altra parte, l'importanza di questo tema per il Governo emerge anche con evidenza delle risposte fornite alla risoluzione 00098 presentata 2 maggio dei deputati Ciro Maschio e altri concernente la richiesta di istituzione di una sezione distaccata della Corte d'Appello di Venezia con sede in Verona. Anche questo è all'attenzione del Governo. Quindi vi chiediamo soltanto di rendervi conto della particolare complessità dei conflitti di interessi che esistono quando si toccano queste materie sensibili, ma vi rassicuriamo che il Governo pone la massima attenzione alle difficoltà che sono emerse dopo la legge del 2012. Grazie Presidente, Signor Ministro, onorevoli colleghi. Siamo soddisfatti della risposta del Ministro Nordio, anche perché è un dato di fatto oggettivo che le razionalizzazioni degli anni passati e la soppressione di diversi tribunali non ha raggiunto gli esiti di efficienza sperati ed anzi spesso ha privato i cittadini di un più facile accesso alla giustizia, soprattutto in territori più disagiati. Quindi l'attenzione dimostrata dal Governo sulla revisione della geografia giudiziaria e il ritorno a una valorizzazione della giustizia di prossimità rappresentano sicuramente un segno di svolta. Il rinvio della soppressione dei tribunali dell'Abruzzo, le risposte sulle riaperture possibili di alcuni tribunali in Calabria, il parere favorevole alla risoluzione approvata oggi in Commissione di Giustizia sulla possibile istituzione di una sezione di staccate da Corte d'Appello di Verona sono dei primi segnali di un piano ovviamente molto più ampio su tutto il territorio che siamo certi lei per la sua competenza e autorevolezza saprà condurre con efficacia. Quindi su questo può contare sul pieno sostegno del Parlamento. Grazie.